Co-presidente, a pochi giorni dall'entrata in vigore di questo obbligo, di questa certificazione verde, qual è la fotografia che si può scattare, le reazioni che lei ha potuto magari raccogliere? Sì, qui come Confindustria Toscana Sud ovviamente abbiamo raccolto e quello si pensava era quello che poi è avvenuto, cioè che non ci fossero grandi problemi, grandi difficoltà né dentro l'azienda né fra i dipendenti, ma praticamente il Green Pass ha funzionato nella stragrande maggioranza dei casi, il Green Pass ovviamente sia che è vaccinato, questo è ovvio, ma anche che è andato a fare ovviamente il tampone e soprattutto si è apprezzato molto il fatto che su quel ritardo che c'era tra il tampone e il Green Pass è stato accettato appunto il fatto di accettare il documento come valido la negatività venuta dal foglio del laboratorio o della farmacia. Questo secondo noi ha agevolato molto e non si è visto ad Arezzo, neanche a Grosseto, neanche a Siena, per quello che ci riguarda come Confindustria Toscana Sud è un problema in merito. Quindi insomma un'applicazione tutto sommato in dolore, ecco molte aziende hanno messo a disposizione i tamponi gratuiti, le più grandi ovviamente, ai loro dipendenti. Voi avete fatto questa scelta? Noi si sta pensando eventualmente a un eventuale rimborso, però il problema non è tanto il rimborso fino a se stesso, ma il valore, quanto il fatto che sei vaccinato effettivamente è una discriminazione alla rovescia, perché dice io mi sono vaccinato e chiaramente lo Stato mi ha dato questo, te che non ti vuoi vaccinare, anche se però è vero il fatto che lui ha diritto a non vaccinarsi perché se una legge ne lo permette. Quindi c'è, è un contrasto su questo, però stiamo valutando se rimborsare perlomeno in parte quello che è la parte, la nostra grande maggioranza della Confindustria credo che anche questo sia un po' un indice complessivo, quello di valutare se rimborsare qualcosa, rimborsare nulla, però normalmente penso che qualcosa venga rimborsato. La percentuale, riusciamo ad avere un dato, la percentuale di persone non vaccinate, magari anche generico se non proprio preciso? Sì, come confusione si è visto che siamo veramente nettamente sotto il 7-8%, queste sono le cifre più o meno che sono le medie, quindi facilmente gestibili, ecco diciamo questo. Facilmente gestibili e questo per fortuna, perché un valore ha questo Green Pass, è il fatto di stimolare le persone a fare il vaccino e credere, come tutto si è creduto, alla scienza, perché non crede alla scienza, poi ognuno crea la sua scienza su se stesso e diventa un'anarchia, poi a quel punto ognuno può pensare tutto e il contrario di tutto. Ecco in questo credo sia riuscito anche questo, perché ho visto i dati di ieri, c'è stato quasi 1.888.000 prime vaccinazioni, prenotazioni, quindi tutto sommato tutto serve per cercare di uscire il prima possibile, perché ripeto, e lo dicevo anche a una televisione della settimana scorsa, il fatto che non è un problema di costo, è un problema di paura a non ritornare dove siamo venuti, perché non ci si potrebbe più permettere quello che è stato anche adesso, né come debito ovviamente pubblico, perché chiaramente erano mali finanziamenti con un Stato comunque garantiti, e tantomeno un'azienda che si sta vedendo ora i PIL, che sta ricrescendo, sarebbe assurdo cercare di ritornare a un balatro, come l'Inghilterra, purtroppo non so se è stato notato, ma insomma si parla di 140.000 ambulanze, morti, non va preso tanto alla leggera questo Covid, perché effettivamente sì è vero in Italia si sta tra le migliori nazioni che c'è in Europa, però per mantenere bisogna comunque starci sempre attenti.